Niente scambio, viero l'ora. La trattativa tra il Teramo e il Monza per il momento si ferma qui. Quello che poteva essere un affare fattibile per il diavolo sembra essere sfumato, probabilmente in maniera definitiva. Non è ancora tramontata invece l'ipotesi che riguarda il passaggio ai Brianzoli di Santoro e Piacentini, anche se sul centrocampista c'è la concorrenza della Virtus Entella con Bruno Tedino, che vorrebbe tornare a lavorare con il giovane ex Palermo. Per il resto non ci sono ulteriori novità. Ilari San Benedettese sembra un'altra trattativa dai margini molto incerti, con il rosso-blu che hanno appena ufficializzato Angiulli, mentre per Mungo l'interesse dell'Avellino rimane sì, ma non alle condizioni del Teramo. In casa Biancorossa intanto anche il quinto giro di tamponi anti-Covid è risultato essere negativo per l'intero gruppo squadra. I biancorossi, dopo due giorni di riposo concessi e la chiusura del ritiro precampionato, si sono ritrovati in mattinata allo stadio Gaetano Bonolis per l'avvio della terza settimana di allenamenti. Oggi e domani previste altrettante doppie sedute. Domani intanto, alle 11.30, nell'Aula Magna Mario Arcelli della Luis Guido Carli, a Roma, ci sarà la presentazione della nuova Lega Pro. E con ogni probabilità, dopo l'11 settembre, giorno previsto per la sentenza, si potrà procedere alla compilazione dei gironi di Lega Pro e dal varo dei calendari. Dunque, al netto del paventato sciopero da parte dell'Asso Calciatori, il campionato potrà partire il 27 settembre, così come ratificato dal Consiglio federale, con il diavolo che dovrebbe essere confermato ancora nel girone meridionale.